cartoni animati per i più piccoli ciao bambini siamo ancora in compagnia della nostra amica Peppa Pig allora oggi vi presento questo playset dove ci sono quattro personaggi quattro personaggi tutti già pronti per andare in vacanza hanno tutto il costumino, il salvagente, quindi si va al mare chissà dove andranno, forse nel mare nel sud dell'Inghilterra visto che è un cartone animato inglese allora a differenza di altri playset che vi ho presentato questo qui non è della Giochi Preziosi ma è di un'altra marca e infatti è una marca che si chiama S Company questo giocattolo è adatto per i bambini dai 18 mesi in su quindi dall'anno e mezzo in su, perfetto perché non c'è niente che si smonta non ci sono pezzi particolarmente piccoli quindi non c'è nessun tipo di problema allora qua io non so se è scritto in greco o in russo non lo so mi sembra forse greco però non vorrei sbagliarmi perché hanno alcune lettere simili credo sia greco comunque allora dicevamo abbiamo quattro personaggi sono Susi ovviamente è la nostra Peppa Rebecca e Candy il gattino guardiamo la scatola anche da dietro che cosa ci fa vedere ci fa vedere che ci sono altri personaggi sempre che vanno in piscino al mare guardate addirittura il nostro papà Pig qua sembra spiaggiato come una balenottera poi c'è la nostra Peppa George e mamma Pig anche lei addirittura col costume due pezzi la nostra mamma Pig bene allora non ci resta secondo me che aprire la scatola e conoscere anche meglio questi personaggi perché fino ad ora abbiamo sempre aperto playset con Peppa o con altri componenti della sua famiglia poi invece ci sono le sue amiche e le sue compagne di scuola allora quindi avranno tutte penso la stessa età Peppa ha 5 anni vanno alla scuola materna e queste sono le sue compagne di scuola tra queste compagne di scuola c'è la sua migliore amica che è Susi Susi la pecorella che simpatica è proprio la migliore amica di Peppa aspettate che cerco di tirar fuori oh bene anche facile da aprire questo e voilà così tiriamo fuori i nostri personaggi ah questi sono proprio perfetti per i bambini piccini togliamo la scatola che non ci serve ecco qua i nostri personaggi allora stavo parlando di Susi cioè di lei allora cosa possiamo dire di Susi Susi appunto è la migliore amica di Peppa il suo sogno è di diventare un'infermiera però nonostante sia la migliore amica di Peppa è molto competitiva con lei e anzi a volte litiga spesso con un altro personaggio che si chiama Zoe vediamo questi personaggi che sono tutti molto morbidi e gommosi quindi è per questo che sono adatti anche ai bambini più piccoli perché appunto magari li possono un pochino mordicchiare sono tutti giocattoli sicuri e soprattutto non si tolgono i pezzi qui abbiamo la nostra Susi con il costumino Fucsia e il salvagente Viola questi sono carini anche da mettere nella nella vaschetta da bagno per giocare mentre si fa il bagnetto qua invece abbiamo la nostra Peppa la nostra Peppa con il costume rosso che è appunto il suo colore preferito e il salvagente con un orsacchiottino quindi ha quasi un giallo carico quasi un giallo mandarino poi qua abbiamo Rebecca Rebecca che è una coniglietta ed è ghiotta, ghiotta, ghiotta di carote ed è anche un pochino timida infatti spesso arrossisce e diventa tutta rossa lei ha il costumino giallo e ha il salvagente azzurro qua abbiamo invece un altro personaggio che io sinceramente non conoscevo si chiama Candy quindi si chiama Caramella ed è un'eccentrica compagna di classe di Peppa ed è anche una sua amica lei ha il costumino verde e ha il salvagente giallo e sono tutte pronte per andare al mare uh ma io voglio trovare anche l'altro playset con gli altri personaggi è troppo simpatico Papà Pig con il salvagente tutto steso lì come se non ci fosse un domani quindi questo qui è appunto un playset una confezione con questi quattro personaggi che vi ricordo appunto sono adatti per i bambini anche più piccoli quindi dai 18 mesi in su perché non si tolgono i pezzi non si staccano si possono anche magari i bambini a quell'età mettono tutto in bocca quindi si possono mordicchiare senza nessun problema e sono proprio carini per giocare da mettere nella vasca da portare al mare e per rendere anche più divertente il momento del bagnetto ecco qua molto semplice ricapitoliamo i personaggi sono Candy la gattina questa amica eccentrica della nostra Peppa ecco qua la gattina poi abbiamo Rebecca che è un'amica un pochino più timida di Peppa ed è un coniglietto con il suo salvagente azzurro lei ama tanto le carote e diventa spesso rossa 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 poi abbiamo Susie la pecorella la migliore amica di Peppa con il suo costume fucsia e il salvagente viola migliore amica di Peppa ma anche molto competitiva con lei spesso litiga ogni tanto litiga no beh ma succede tra migliori amiche e infine la nostra Peppa eccola qua con il suo costumino rosso e il salvagente color setto giallo giallo carico quasi un giallo arancio ecco qua li abbiamo presentati tutti eccole che augurate come sono carine queste quattro amiche pronte a sguazzare in acqua e divertirsi noi vi salutiamo e ci vediamo alla prossima puntata ciao 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 ciao